Questa città, la città di Fano, ha il diritto e il dovere di avere una rappresentanza in regione, una rappresentanza che porti avanti le istanze, rappresenti il territorio e risolva i problemi del territorio, cosa che in questi anni non abbiamo avuto. In questi ultimi cinque anni non abbiamo avuto un consigliere regionale di maggioranza e questo purtroppo lo abbiamo scontato pesantemente. Noi abbiamo bisogno di gente che sta sul territorio, io sono uno di quelli che è sempre stato in mezzo alla gente, lo puoi trovare al supermercato, al bar, al ristorante, in città a fare la spesa, perché sono una persona che vive comunque la città, che vive la comunità giorno per giorno. E mi impegnerò anche sul tema della sanità perché tutti i cittadini hanno bisogno di una sanità di serie A, tutti, non solo alcune realtà, ma tutti hanno diritto ad una sanità di serie A. Questo significa che io presidierò il tema della sanità 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno senza interruzione, perché la sanità è sicuramente il tema su cui dovremo impegnarci con forza, con vigore e con determinazione perché è l'interesse primario dei nostri cittadini. E solo facendo un lavoro capillare di presidio del territorio, con coerenza, con tanto lavoro, con determinazione, potremmo riuscire a portare a casa questi risultati. Grazie.